La statale Sevina occidentale resta chiusa, situazione più critica del previsto dopo la frana a Parzanica. Ci vorranno almeno tre giorni di lavori. Elezioni a Ponte Nossa, il sindaco uscente Stefano Mazzoleni punta alla riconferma tra gli obiettivi la conclusione dell'iter per il nuovo ponte sul serio di cui in questi giorni è stato approvato il progetto di fattibilità. Entrano nel clui festeggiamenti per i cento anni del gruppo Alpini di Clusone. Da giovedì a domenica diversi appuntamenti in programma, uno spettacolo teatrale, momenti conviviali e una grande sfilata. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il telegiornale di Antenna 2. È stato un sabato tragico in Valcamonica. Due ragazzi sono morti in altrettanti incidenti stradali. Nel pomeriggio lo schianto avvenuto a Ossimo in cui è morto Sergio Sanzogni, 25enne di Borno di cui vi abbiamo già dato notizia sabato. In serata intorno alle 23 a Bienno un altro incidente costato la vita un ragazzo di 17 anni di origini albanesi, Alan Caraboya. Era alla guida di una moto da enduro su cui viaggiava come passeggero un suo amico di 15 anni. Stavano scendendo verso Berzo Inferiore quando all'altezza di una curva il 17enne ha perso il controllo della moto che si è schiantata contro un muretto di delimitazione della carreggiata. I due amici sono stati sbalzati di sella e sono caduti rovinosamente sull'asfalto. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è stato inviato anche l'elicottero. Il ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale civile di Brescia dove è deceduto poche ore più tardi. L'amico di 15 anni è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bercamo. Sempre la cronaca. I carabinieri di Dalmine hanno rintracciato e condotto in carcere un 44enne italiano residente a Dalmine condannato in via definitiva per il reato di rapina aggravata in concorso. L'uomo già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona era stato condannato a 5 anni di reclusione. L'episodio incriminato risale agli inizi di giugno 2019 quando il 44enne in concorso con un cittadino extracomunitario aveva commesso una rapina ai danni di una giovane donna a Verdellino. Secondo le ricostruzioni i due avevano avvicinato la vittima con una scusa strappandole il cellulare dalle mani e spintonandola a terra. Successivamente si erano dati alla fuga a bordo di un'auto già nota alle autorità perché coinvolta in una rapina aggravata avvenuta pochi giorni prima in una sala slot di Treviolo. Il 26 aprile di quest'anno il Tribunale di Bergamo ha emesso l'ordine di carcerazione per il 44enne che nel frattempo si era reso irreperibile. I carabinieri di Dalmine hanno avviato le ricerche conducendo indagini approfondite e monitorando i luoghi frequentati dal pregiudicato. L'uomo è stato avvistato in diverse occasioni nei pressi dell'abitazione dei genitori soprattutto durante le ore notturne. La sera del 29 maggio l'uomo è stato rintracciato e arrestato per essere poi trasferito alla casa circondariale di Bergamo. Cambiamo argomento, non arrivano buone notizie in merito alla statale 469 Sebina occidentale chiusa da sabato mattina per una frana in territorio di Parzanica. Oggi si è svolto un sopraluogo per verificare la situazione del versante da cui il materiale si è staccato ed è emerso che appunto la situazione non consente una riapertura immediata. A darne notizia sui social il sindaco di Tavernola Bergamasca Danilo Ioris Pezzotti. Il danno è superiore a quanto evidenziato fino ad ora, ha scritto Pezzotti. La pulizia e il ripristino vanno estesi alla parte destra dello smottamento avvenuto quindi sono necessari almeno tre giorni lavorativi. Nella migliore delle ipotesi, scrive ancora il sindaco, si potrà aprire giovedì a senso alternato dopo ulteriore intervento del geologo. Nel frattempo per quanto riguarda il trasporto pubblico continuerà il servizio sostitutivo con i battelli tra Tavernola e Riva di Solto. Voltiamo pagina, sprint finale per liste e candidati in campo alle amministrative dell'8 e 9 giugno. Ad Albino il centro-destra punta a dar continuità agli ultimi dieci anni di amministrazione candidando Daniele Esposito nella corsa a tre che vede impegnati anche Paola Benigni e Fabio Gualandris. Si punta al rilancio del centro storico e alla valorizzazione delle frazioni. L'intervista è di Simone Masper. Siamo ormai nell'ultima settimana, manca pochi giorni alle elezioni, siamo con Daniele Esposito candidato per le liste di centro-destra. Che atmosfera c'è, come sono stati i confronti che ci sono stati sul territorio? L'atmosfera è molto positiva, sentiamo veramente tante persone che ci appoggiano e questo fa veramente piacere. I quattro dibattiti sono stati molto interessanti, in questi abbiamo potuto esprimere le nostre posizioni e penso sia emerso l'elemento di competenza ed esperienza che caratterizza me e la mia coalizione. Su quali temi state insistendo? Un tema secondo noi molto importante è il rilancio del centro storico e per fare questo andremo a intervenire sugli edifici pubblici esistenti, l'ex Casa della Misericordia in Piazza San Giuliano che diventerà l'Accademia delle Arti, Casa Clara che diventerà un luogo di accoglienza per donne in difficoltà socio-economica, l'ex Municipio che diventerà un prolungamento della biblioteca con auli studio aperte H24 e spazi di co-working e l'ex Monasterio di Sant'Anna che diventerà pubblico e sarà sede di luoghi di aggregazione sociali e culturali. Tutto questo ha un unico obiettivo, quello di rilanciare il centro, portare più persone nel nostro comune e questo farà dare beneficio anche ai commercianti, quindi una città più viva, più vivace e anche dal punto di vista commerciale più attrattiva. Ma non ci fermeremo qui, interverremo anche nelle frazioni a Bondo con dei parcheggi nella zona delle elementari, a Desenzano con le case delle associazioni, le ex elementari e la scuola dell'infanzia, a Comenduno ristruttureremo Villa Regina Pacis e in Valle del Luglio faremo vari interventi. Primo tra tutti il completamento del parco con un punto ristoro e servizi igienici, a Vallalta il parcheggio sotto il campo da calcio, a Fiobbio completeremo il parcheggio e collegamento alla pista ciclopedonale e sistemeremo la strada vecchia che collega a Abbazia. Ad Abbazia andremo a riqualificare il parcheggio del cimitero e creeremo nuovi parcheggi in via Tribulina. A Dossello sistemeremo la seconda parte di via Dossello e a Casale collaboreremo con la associazione Amici di Casale, dandogli anche uno spazio pubblico dove potranno trovarsi e anche facendo degli interventi di sistemazione della fontana e della pensina. Insomma tanti interventi non solo nel capoluogo ma anche nelle frazioni perché riteniamo che Albino con la sua grande estensione territoriale meriti un'attenzione a 360 gradi. Un appello quindi agli incerti perché scegliere le vostre liste e perché scegliere la linea esposita? Dovrebbero scegliere me e le liste che mi sostengono perché Albino è il sesto comune della provincia con i suoi 17.500 abitanti, ha un'estensione territoriale di 32 km quadrati, un patrimonio immobiliare comunale di 90 milioni di euro e un bilancio comunale di 23 milioni, oltre a 90 dipendenti pubblici. Per poter gestire questa macchina serve una persona con esperienza, capacità, competenza e piedi ben piantati per terra. Io e la mia squadra incarniamo queste caratteristiche, per questo è opportuno votare noi. Punta alla riconferma anche il sindaco uscente di Ponte Nossa, Stefano Mazzoleni, 49 anni, tecnico in un'azienda locale, è stato vice sindaco dal 2004 al 2013, poi vice sindaco reggente e infine primo cittadino. Tra i suoi obiettivi la conclusione dell'iter per il nuovo ponte sul serio. Stefano Mazzoleni, sindaco uscente di Ponte Nossa, si ricandida alle elezioni amministrative sempre con la lista civica Ponte Nossa in comune. Un gruppo rinnovato, che cosa vi ha spinto a continuare questa esperienza? Io credo che il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni ha dato, direi, significativi risultati per la comunità di Ponte Nossa e abbiamo ancora qualcosa da dire e credo che, ad esempio, la notizia di questi giorni dell'approvazione da parte di provincia di Bergamo, dell'antiprovincia di Bergamo, del preliminare, del nuovo ponte, è uno dei motivi per cui noi ci sentiamo ancora di poter fare qualcosa di positivo per il paese. Il ponte arriva da una visione particolare, quindi siamo partiti dalla rotatoria, la rotatoria ha reso credibile anche la possibilità di fare questo nuovo ponte. Il ponte finanziato interamente da Regione Lombardia con 3 milioni e mezzo ha reso, come dire, appetibile in modo concreto e serio l'area industriale, il comparto industriale di Ponte Nossa che è stato acquisito da un importantissimo gruppo della Valle Seriana e quindi la notizia che provincia di Bergamo approva il progetto preliminare per noi è davvero una grande soddisfazione. Rimane ancora un pezzettino di strada per arrivare a realizzare quest'opera e quindi noi, ad esempio, in questo particolare progetto crediamo molto e quindi lo vorremmo portare a termine. Abbiamo altri temi che vorremmo in particolar modo sviluppare. Eravamo arrivati a buon punto nel 2019 e inizio del 2020 con uno studio nel quale avevamo coinvolto ATS e Ambito per inserire all'interno della Residenza Frua, case anziani, ex case anziani, dei servizi per i nostri anziani, anche delle tipologie abitative protette, diciamo, tipo residenza leggera. Purtroppo il Covid ha spazzato via un po' tutto lo studio che era stato fatto e quindi siamo dovuti ripartire da zero e questo ha comportato un rallentamento. Quindi vorremmo chiudere anche questo tema e inserire davvero presso la Residenza Frua, servizi per gli anziani. Abbiamo un programma articolato, concreto, lista civica Ponte Nosso in comune. Il nostro motto è, insomma, continuità e concretezza. Noi crediamo che negli anni abbiamo dimostrato davvero di fare le cose, di farle in modo onesto e trasparente e quindi chiediamo ai nostri cittadini di poter andare avanti di questo passo. Io ho avuto due gruppi nei due miei mandati da sindaco che voglio ringraziare. Abbiamo sempre lavorato in modo coeso e con ottimi rapporti sempre fra di noi. Battelli Spazzini ancora al lavoro in questi giorni sul lago di Seo recuperate ben 100 tonnellate di legname trasportato dal fiume Olio. Il maltempo dell'ultimo mese ha creato numerosi problemi nella zona dell'Alto Sebino. Le forti piogge che hanno interessato la Val Camonica hanno provocato l'ingrossamento del fiume Olio che ha trascinato con sé rami, alberi e altri materiali tra cui plastica e polistirolo depositandoli nel lago di Seo tra Pisogne, Lovere e Costa Volpino. Su richiesta dell'autorità di Bacino sono stati immediatamente attivati i battelli Spazzino. In diversi giorni di lavoro questi mezzi sono riusciti a recuperare gran parte del materiale depositandolo temporaneamente nella località Pizzo in attesa del successivo smaltimento. Fino ad oggi sono stati recuperati centinaia di metri cubi di materiale legnoso per un peso totale di circa 100 tonnellate. Alessio Rinaldi, presidente dell'autorità di Bacino, spiega che l'attività di recupero è stata necessaria per evitare qualsiasi pericolo alla navigazione e alle diverse attività proposte sul lago. Ancora una volta, conclude Rinaldi, la società MPL si è dimostrata efficace e veloce nel liberare lo specchio d'acqua dell'Alto Sebino. Il materiale recuperato verrà successivamente trasportato in un deposito di stoccaggio a Montichiari per il trattamento e lo smaltimento finale. Entrano nel clui i festeggiamenti per i cento anni del gruppo Alpini di Clusone. Da giovedì 6 a domenica 9 giugno diversi eventi animeranno la cittadina. Sono in programma uno spettacolo teatrale, momenti conviviali e una grande sfilata, ma scopriamone di più. Il 2024 è un anno speciale per gli Alpini di Clusone che festeggiano il loro centenario che si è già aperto con l'inaugurazione di una mostra in Piazza Orologio, ma adesso arrivano i giorni clou. Come saranno queste giornate per sottolineare questo traguardo così importante? Sì, diciamo che abbiamo organizzato una serie di iniziative per onorare al meglio questi cento anni che sono un traguardo, come dicevi tu, molto molto importante. Le iniziative, abbiamo già detto dalla mostra fotografica che è stata già allestita e è già stata aperta presso Sala Portec, sotto il piano terreno del Palazzo Comunale. Diciamo che le iniziative più principali sono concentrate dal giovedì 6 giugno, dove ci sarà la prima serata importante con uno spettacolo teatrale, spettacolo teatrale che verrà eseguito presso il teatro Monsignor Tomasini, quindi nei pressi dell'oratorio, anzi colgo l'occasione per ringraziare ancora anche Monsignor Vorlini e Don Alex che ci hanno dato la disponibilità dei luoghi. Lo spettacolo teatrale che sarà concentrato su quello che è la storia degli Alpini, ma soprattutto la storia degli Alpini clusonesi. Quindi cercherà di raccontare un pochettino quello che hanno fatto gli Alpini clusonesi per la cittadinanza di Clusone. Questo racconto sarà intervallato anche da alcuni spezzoni musicali e quindi vi invito a partecipare perché è davvero una cosa molto interessante e particolare. Il venerdì 7 giugno ci sarà una serata conviviale con una cena con gli Alpini presso la Corte Sant'Anna nei pressi della nostra sede. Abbiamo individuato questo luogo perché abbiamo proprio la nostra sede dal gruppo e ci piacerebbe magari anche aprirla perché tanta gente magari non sa neppure dove abbiamo la sede. Quindi è un modo per festeggiare insieme, stare in compagnia. La serata sarà alietata dal gruppo degli Aghi di Pino che cantano canzoni popolari e poi ci sarà anche il Morot che è quel personaggio che racconta e ci renderà la serata più allegra raccontando le sue barzellette. Il sabato 8 giugno ci troveremo presso l'oratorio sempre alle ore 16 dove in un piccolo corteo ci avvicineremo al monumento dei caduti dove ci sarà la deposizione della corona di alloro e poi da lì tutti assieme proseguiremo verso la basilica dove faremo la messa alle ore 18. Al termine della messa il gruppo della Bande Bidu ci ospiterà in piazza dell'orologio per offrirci un piccolo aperitivo e ancora un attimo di convivialità per stare tutti assieme e festeggiare per fare un brindisi al centenario. La domenica invece che è la giornata principale, giornata più importante, ci sarà la sfilata per le vie cittadine, il ritrovo è alle ore 10 presso sempre l'oratorio, il campo dell'oratorio, da lì partirà la sfilata lungo il corteo delle vie cittadine, diciamo cerchiamo di percorrere tutto quello che è il centro storico di Clusone, poi abbiamo già messo in giro un pochettino di locandine dove viene illustrato anche il percorso e poi la sfilata terminerà al palazzetto lo sport di via Don Beppo Vavassori dove ci sarà il pranzo conviviale tutti assieme, c'è una festa che non è solo rivolta agli alpini ma a tutta la città dinanza clusonese, quindi davvero ci farebbe molto piacere vedere alla nostra festa tante tante persone di Clusone. È Zeno in condotta di Massimo Vitale, il titolo di letteratura contemporanea più amato dai ragazzi che hanno partecipato all'ottava edizione di Libri per Sognare in Fiera a Bergamo, la festa finale con più di 700 studenti. Per noi c'era Simone Masper. Bastava guardare uno sguardo alla platea, ecco, l'interesse di tutti questi ragazzi, quindi significa che questa edizione è andata benissimo. È andata molto bene, anche quest'anno, come l'anno scorso abbiamo raccolto circa 3.000 ragazzi, molte scuole, quasi tutte della provincia di Bergamo. Abbiamo eguagliato il record dell'anno scorso che però era stato organizzato su due province, perciò diciamo che è un evento sicuramente in crescita. Altre province ci stanno chiedendo di esportare il modello. Anche stamattina veramente tante emozioni, tanta adrenalina. Significato profondo di questa iniziativa? Il scopo di questa iniziativa è quella di avvicinare i ragazzi alla lettura e creare, speriamo, i grandi lettori del futuro. Come è il mercato oggi? Il mercato dei libri per ragazzi non va male. Se guardiamo invece i libri in generale, diciamo che quest'anno, cioè nei primi quattro mesi dell'anno, stiamo registrando un segno o meno rispetto all'anno scorso, meno vendite. La speranza quindi sono questi ragazzi e degli insegnanti che li avvicinano alla lettura? Certo, gli insegnanti sono fondamentali. Siamo riusciti a raggiungere in otto anni questi numeri perché gli insegnanti ci seguono, perché stanno credendo nel progetto. E anche noi, prima di avviare tutti gli anni le nuove edizioni, ci confrontiamo con le insegnanti per cercare qualcosa di più da aggiungere al progetto e anche magari per migliorare quegli aspetti che sono migliorabili. Perciò c'è anche un confronto con loro. Zeno in condotta, Massimo Vitali, un mare di successo, un trionfo con questi ragazzi. Un mare di successo che ha battuto anche l'acquazzone e la pioggia che c'è oggi su Bergamo. L'abbiamo battuta tutta, quindi insomma è stato mai successo una cosa del genere, non della pioggia ma dei ragazzi che hanno votato un libro che è stato scritto per i ragazzi a cui non piace leggere e in qualche modo insomma mi ha fatto tanto il piacere questa cosa. Di cosa parla questo libro? Parla di Zeno che è un ragazzo che odia leggere, studiare ma soprattutto leggere e si innamora di una ragazza la cui uno che ha passione è la lettura e per conquistarla come dovrà fare? E adesso è il momento di scoprire di cosa si parlerà nella prossima puntata della nostra trasmissione Sassonello Stagno. Sentiamo Tony tranquillo. Il Sassonello Stagno della settimana è a Clusone in occasione della giornata mondiale senza tabacco. Una bella occasione per sensibilizzare le persone su questo argomento. Il tabacco, lo sappiamo, prima causa di morte nel mondo. Riusciremo nella nostra puntata a convincere qualcuno a smettere di fumare e speriamo proprio di sì raccogliendo anche ovviamente storie di tabagisti. Questo nel Sassonello Stagno della settimana, adesso subito un'intervista. Fa male, ne parlavo giusto con mio figlio. Perché oggi è la giornata mondiale. A scuola ne parlano e dice sempre sì, però il papà fuma. L'esempio, pessimo. E quante volte ha provato a farlo smettere? Qualche volta. E ci ha riuscito per una stagione, un'estate, perché era meno stressato. Poi dice appena inizia a lavorare si stressa e quindi niente. E quindi la sigaretta abbassa lo stress? Sì. E poi sono le mogli e le compagni che fanno tornare lo stress? È colpa mia, quindi fumo per colpa mia. Esatto, quindi anche mio figlio prenderà a fumare tra un po', mi immagino. E cosa dicono i ragazzi a scuola? Hanno fatto dei laboratori contro tutte le dipendenze, quindi alcol, fumo, anche cose più pesanti. Per cui alle medie fanno questi incontri che sono interessanti e importanti. Però l'esempio se poi non arriva... E poi vengono a casa e lo dicono alla mamma e soprattutto al papà. Sì, che poi il padre fuma poco, i nonni fumano tantissimo. E cosa posso fare io? Quindi praticamente è un vizio che si tramanda. Sì, esatto. No, dalla mia parte nessuno invece. Come si fa a tenere lontano i ragazzini dal fumo? Non stressandoli, dandogli delle cose interessanti da fare, lo sport, gli amici, credo queste cose. Poi magari proveranno. E come ha fatto a non farsi contagio? Ho fatto tre sigarette in tutta la mia vita. Sono fortunata, non mi piace. Prima ancora del discorso fa male, mi sembrava una cosa stupida. In conclusione i programmi di Antenna 2. Questa sera il calcio in primo piano alle 20.10 con tempi supplementari. Poi a seguire alle 21.30 Sport e Tempo Libero. Alle 21.50 il torneo Tennis VIP dell'Accademia dello Sport e della Solidarietà. Alle 22.15 Italia Economia. Alle 22.30 la seconda edizione del TG. Alle 23.05 la commedia dialettale della compagnia Baradeia Lager di Clusone. Offese dei matrimoni per Touch Bay e Bruch a Luna. Infine la terza edizione del telegiornale. Dal Manacco domani è martedì 4 giugno. Il sole sorge alle 5.26 e tramonta alle 21.11. La luna è in fase calante, sorge alle 3.46 e tramonta alle 19.09. La chiesa ricorda San Quirino. È tutto anche per questa edizione. Grazie per averci seguito e buona serata. La chiesa ricorda San Quirino.